Musica Un saluto ai nostri amici telespettatori eccoci a consueto appuntamento con la rubrica Family Salute e Benessere oggi parliamo di colpi di calore ne parliamo con il nostro ospite il dottor Stefano De Carli che è direttore della struttura operativa complessa di medicina interna dell'ospedale di San Daniele buongiorno, grazie per essere qui grazie per l'invito ecco, quindi adesso ricominciamo con ancora con una nuova ondata di caldo e quindi attenzione attenzione soprattutto per quanto riguarda le persone maggiormente a rischio che sono i bambini, gli anziani e le persone che hanno delle patologie delle malattie croniche in particolare il sovrappeso ecco, anche il sovrappeso eh sì, perché il problema è proprio per dire qualcosa anche un po' di diverso perché l'argomento se ne parla spesso in questo periodo è legato al fatto che noi fondamentalmente siamo una macchina poi ci sono anche tanti luoghi comuni certo, esatto invece scendiamo proprio nel... perché in effetti la domanda è perché si parla dei colpi di calore e non si ha paura dei colpi di freddo più di tanto perché noi siamo una macchina fondamentalmente e quindi produciamo calore quindi il nostro organismo producendo già calore ha necessità più di rinfrescare la nostra corpo rispetto a che riscaldarlo infatti se uno va a vedere la temperatura quando si alza deve essere strettamente controllata mentre è più tollerabile il fatto che si abbassi per cui noi possiamo anche avere una temperatura normale corporea che va dai 36 anche ai 35 gradi ma sopravviviamo anche fino ai 32 28 è già una situazione di congelamento però vedete che sono 8 gradi se io da 36 vado a 44 l'organismo muore quindi il problema è proprio il fatto di dover disperdere il calore quindi questo già è un problema che può succedere anche in condizioni non di calore esterno se faccio attività fisica in condizioni non ideali anche d'inverno posso rischiare un colpo di calore e quindi che cosa bisogna che cosa bisogna prestare attenzione sia in estate che in inverno che in inverno è il favorire la sudorazione per esempio questo è la prima cosa perché la modalità più efficiente efficace è la sudorazione e quindi l'idratazione è fondamentale perché la sudorazione permette di disperdere maggiormente la temperatura e quindi mantenere quella che si chiama omeostasi cioè quindi l'equilibrio interno della temperatura il problema degli anziani e dei bambini è nel fatto l'anziano perché tendenzialmente tende ad essere disidratato di suo i bambini e i soggetti in sovrappeso perché hanno una superficie corporea che tende ad essere inefficace nel disperdere il calore oltre a questo c'è il problema poi dei farmaci che possono influire sia determinando disidratazione ad esempio diuretici sia anche alterando i meccanismi di termoregolazione come alcuni farmaci che hanno effetto a livello centrale o alterano anche il meccanismo della sete ecco il colpo di sole perché si sente in questo periodo colpo di sole c'è chi magari lavora all'aria aperta sotto il sole per tante ore che cosa succede e quali rimedi dovrebbe seguire per evitare appunto colpo di sole se uno non è costretto a lavorare perché deve asfaltare le strade dovrebbe cercare di evitare su un tetto dove magari copricapo qualcosa aiuta sicuramente ma in queste condizioni anche lì è importante idratarsi potersi rinfrescare continuamente ma se uno non ha una stretta necessità deve ovviamente evitare le ore più calde ma questo è un principio della nonna non lo può evitare non lo può fare perché magari deve seguire un certo orario di lavoro allora deve bere in quel caso lì molto abbondantemente cercare di rinfrescarsi perché questo soprattutto almeno il capo perché il capo comunque ha una superficie che permette una dispersione di calore elevata è un problema d'inverno perché ci si è una fonte di raffreddamento eccessivo ma d'estate può permetterci così di ridurre un pochino questo rischio e poi ovviamente il problema nei soggetti che lo fanno per lavoro poi hanno comunque un minimo di adattamento e ovviamente sarebbe possibile evitare di fare queste attività nelle soggetti invece che sono invece che hanno per motivi ricreazionali che stanno all'aperto è ovvio evitare ma questo le temperature calde ma questo vale non solo per i soggetti malati ma vale per tutti ecco bisogna stare attenti cioè ci si deve idratare anche se non si sente lo stimolo della sete ma come mai nei bambini non è presente lo stimolo della sete come non lo è nelle persone anziane allora le persone anziane e i bambini tendenzialmente hanno uno stimolo della sete che compare quando la disidratazione risulta essere avanzata cioè praticamente lo stimolo della sete è in dei centri dei recettori che sono l'ipotalamo all'interno quindi del cervello che sono sensibili a quello che è la concentrazione dei sali nel sangue quando questa risulta essere aumentata parte lo stimolo della sete purtroppo nell'anziano e nel bambino questo risulta essere tirato su un pochino verso l'alto e quindi quando compare risulta essere ritardato il problema grosso paradossalmente può essere anche nei giovani perché questo avviene ad esempio nei soggetti che fanno molto allenati quindi anche lo sportivo ha questo rischio e quindi bere anche contro lo stimolo della sete gli integratori mi vengono in mente appunto gli integratori quando si parla sportivi sempre lì pronti con la bottiglietta con le polverine se uno va a fare un'attività tipo a correre ad esempio adesso che è caldo sicuramente sì perché il volume di acqua che si perde risulta essere elevato diciamo che soprattutto nelle prime fasi del periodo di caldo quando l'organismo si deve adattare e successivamente quando si suda in modo particolare questi possono essere utili nella prima parte perché si perde una grande quantità di sali poi fa parte dell'adattamento che si risparmiano i sali a favore invece dell'acqua quindi una sudorazione che uno anche nota le prime ondate di caldo sente un pochino la pelle più piccicosa e dopo invece questo viene meno e quindi conseguentemente a meno che uno non abbia una dispersione di calore che va intorno ai 2 litri oltre litro e mezzo o 2 in realtà quello che perdiamo è la gran parte acqua e il resto degli integratori si può assumere con gli alimenti quali la frutta e la verdura per situazioni più superiori sicuramente sì ecco quindi se uno non fa attività sportiva è sufficiente che beva beva tanta acqua sì assolutamente poi gli integratori quelli che sono comunemente in commercio uno se lo può fare anche in casa molto banalmente ma c'era una ricetta per prepararsi no? l'integratore io una volta a un corso per arbitri l'avevo spiegata era diventata famosa come la ricetta del dottor De Carli che è la è quello che si dà sentiamo la ricetta del dottor De Carli che non è mia è quello che si dà normalmente per idratazione dei bambini in Africa che hanno la diarrea quindi in situazioni particolarmente importanti ed è un litro d'acqua 4 arance e 2 cucchiai rasi di zucchero un briciolo di sale che serve perché veicola meglio il sale e lo zucchero veicola meglio l'acqua quindi più che una idratazione vera e propria cioè più che una idratazione da sali minerali è importante lo zucchero in minime quantità perché accelera l'assorbimento dell'acqua all'interno intestinale quindi anche in condizioni normali più che bere acqua semplice averla leggermente zuccherata migliora l'idratazione quindi un litro d'acqua 4 arance quindi 4 sì sì una struta d'arance e un cucchiaino di sale 2 cucchiai rasi di zucchero messo poi in frigo perché magari così fresca è più palatabile come si dice quindi più buona questa è una ricetta semplice perché poi è nata così più o meno la più famosa delle bevanti integratori in commercio e quindi noi la chiameremo anche questa no beh questa non l'ho inventata io quindi non voglio fare rubare il copyright senza dottor De Carli in questo periodo lei sta ha notato che c'è un incremento di persone che si ricoverano in ospedale proprio in seguito a problematiche legate al caldo sì e beh questo avviene in tutti i periodi dell'anno se possono essere i ricoveri sono i periodi peggiori sono l'estate e l'inverno per opposti motivi sì sicuramente in questo periodo ma è legato effettivamente sia al caldo ma anche al fatto che molti soggetti anziani che prendono farmaci come i diuretici con la disidratazione in questo caso sì avviene la disidratazione perché aumenta la sudorazione la perdita d'acqua il volume di liquidi che in inverno è sufficiente diventa insufficiente d'estate e quindi possa andare incontro facilmente a disidratazione più che colpo di calore è proprio legato al fatto proprio di quelli che sono l'adattamento che è la sudorazione per il caldo colpo di calore vero e proprio capitano ma raramente ma io non ho una diciamo che nel mio caso non sono una cartina tornasole sensibile perché arrivano più in pronto soccorso che in medicina questi pazienti col colpo di calore però il caldo sicuramente peggiora tutte le condizioni di malattie croniche senta ci manca poco più di un minuto alla conclusione della trasmissione abbiamo detto ogni stagione alle sue problematiche come dobbiamo prepararci ad affrontare adesso la stagione autunnale c'è chi dice tornerà covid-19 nessuno ha nessuno può leggere nessuno ha la sfera di cristallo ma io dico ma con che spirito anche l'affrontare lo spirito deve essere secondo me come un'idea di che è un'opportunità per migliorare anche quelle che sono le cure dei pazienti cioè molte delle buone abitudini che abbiamo assunto cioè il lavaggio delle mani e l'attenzione ad esempio con la mascherina che ovviamente non deve diventare una cosa patologica sicuramente ci aiuterà ad affrontare l'autunno io è probabile sicuramente ci sarà però è una malattia con la quale molto premete dovremo convivere quindi secondo me bisogna cercare di affrontarla serenamente perché se si affrontano le cose serenamente e non con il terrore sicuramente si riesca a affrontare perché le malattie esistono da quando esiste l'uomo e questa è una delle tante malattie purtroppo è nuova dobbiamo ancora conoscerla nessuno può dire cosa verrà se positivo o negativo però è importante fare tutto in modo responsabile pensando che parte da noi la possibilità di riuscire a contenere questa malattia bene ringraziamo il dottor Stefano De Carli che ricordiamo essere direttore della struttura operativa complessa di medicina interna dell'ospedale di San Daniele grazie per essere stato con noi grazie per i suoi preziosi consigli grazie a voi per averci seguito e noi con la rubrica family salute e benessere ci vediamo la prossima settimana sempre alla stessa ora arrivederci grazie a tutti